Il bambino più fortunato del mondo diventò il ragazzo più fortunato del mondo e infine l'uomo più fortunato del mondo. Ma il colmo della fortuna doveva ancora arrivare. La persona più fortunata del mondo sei tu. Tornano le settimane della cultura. Entri gratis in tutti i musei e luoghi d'arte statali dal 9 al 17 aprile. Grazie per la visione!